Ehi, Tosca, stai tranquilla, tanto le pillole te le riporta al procuratore, no? Con una bella denuncia all'ordine professionale, però. Ma lo sai che trip quando l'oretto scopre che sei schizzata? Quello non ti cazza solo, ti fa persino rinchiudere. Se l'avessi trovata si sarebbe già fatto sentire. Perché, scusa? Tu ti saresti fatta sentire? Che cosa c'entro io? Comunque mi dispiace. Sai che mi piaceva il procuratore? Era bello come il sole. E non era neanche troppo stupido. E poi a noi due ci assomigliamo, no? Scusami, non ho capito che cosa hai detto. Così preciso. È ferito, però non si è reso. È trasgressivo, ma è leale. È come un orso. Però affezionato agli esseri umani. Mi hai rotto il cazzo con i tuoi elenchi e vetti giù quella sigaretta che non si può fumare. È come un uico. So, sto brillando... Sì! Grazie a tutti